La mano sinistra della Madonna, come si vede questa mano qui, molto, vedete, nervosa, non colosa, non appare una mano che è dedicata a lei, alla Madonna. È Francesco Sordini, a retino doc, residente a Ponticino, a raccontare ai nostri microfoni quella che potrebbe essere l'ennesima scoperta che riguarda Leonardo da Vinci. L'opera in questione è La Vergine delle Rocce, dipinta tra il 1483 e il 1486 da da Vinci ed esposta al Museo del Louvre di Parigi. Due le versioni, molte le copie, La Vergine delle Rocce è fra i più ammirati capolavori di Leonardo, ma anche fra i più complessi. Sordini si è soffermato sulla mano della Vergine, che in entrambe le versioni è troppo mascolina, secondo lui, per essere quella della Vergine, peraltro a soli 16 anni. Secondo Sordini, che ha inviato la sua scoperta anche a tanti studiosi a retini, la mano sarebbe quella di Leonardo. E' la mano destra di Leonardo, per semplice fatto. Perché? Perché facendo una mano in questa posizione è molto difficile per ogni artista, perché è una mano vista di punta. Lui ha fatto semplicemente questo. Siccome era anche, tra l'altro, mancino, dinanzi all'opera, lui non ha fatto altro che mettere lo specchio davanti a sé. Con la mano destra stava davanti allo specchio e dallo specchio vedeva la mano sinistra della Madonna. Lui era molto delicato nel fare le mani, perché basta guardare le mani della seconda e ci dice tutto.